Proseguono senza sosta le indagini per risalire all'identità dei componenti della cosiddetta Banda del Buco, il gruppo criminale che il 7 gennaio scorso ha tentato il colpo nel cavo della banca Monte dei Paschi di Siena, soccorso Vittorio Emanuele a Salerno. I malviventi sono passati attraverso le fognature a metterli in fuga l'allarme e l'intervento dei carabinieri. L'intervento di tanto personale dei carabinieri ovviamente ha contribuito a mettere in fuga questa organizzazione, perché sicuramente si tratta di un'organizzazione criminale con più persone coinvolte, sicuramente le indagini proseguiranno per poter identificare gli autori. Mentre sul fronte della sicurezza in città nel periodo natalizio, il comandante Melchiorre si dice soddisfatto. Sicuramente un bilancio positivo. Di fatto tutti gli sforzi possano essere, grazie al coordinamento ovviamente della prefettura e sotto la direzione del questore, ha consentito a tutti i cittadini di trascorrere delle serate tranquille, nonostante un afflusso notevolissimo di persone, così come ci si aspettava.